dai partite come in accelerazione ma che sei subito, t'ha capito chiunque tieni aaaaaaah fa' il cuore fa' il cuore un missile ma cagare porca troia un missile vieni lì indieti schifi fate schifo ma che troia vedrai il gol di sciaponare che lavoro ragazzi 7 in più vorrei cambiare la formazione ragazzi cambio perchè non si può prendere qualcosa una sciaponata metà campo arriva lì questo qua si diceva lascia partire il tiro bastardo di un sciaponare ancora ma che roba questo qua basta è arrivato il treno è arrivato è arrivato è arrivato